ok ci stiamo dentro o non ci stiamo dentro oggi bisogna provare la c'è la, ti capi? kai e new r41, un mostro intanto lo armiamo, armiamolo con le kai che setup oggi ho, un po' pericoloso, no? è un attimino, kai soprattutto vedo male l'oblico io, con questo setup così leggero ma è il domenica e si, kai, andiamo eh, guarda tu eh, mi baglio il viso magari eh, io procederei alla stesura di cella bio come ieri direttamente in viso, eh? eh sì perché si tratta di prodotto fresco di prodotto non mi serve neanche l'azione del pre barba eh, faccio tutto in uno non è un chubby 2 synth, raccolgo quello che è rimasto sulla mano eh, chubby 2 synth vabbè, andiamo quindi no, vabbè, con fai così latamente interven non è Fizz Latring ho detto anche F.L Fazione dell'Aloe Setup scelto per oggi R41 e Kai eh non male questo uffo di slaughtering ma direi che può bastare no? io inizio con il mio LR41 eh? si sente mordere eh? ok 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 non mi sta andando a due inapnea e non si accende più non si accende più non si accende più zona pizzetto non si accende più non si accende più non si accende più non si accende più è basta prima passata di pelo vediamo l'obliquo adesso che sarà più veloce ok Grazie a tutti Basta, no? Mi piacciono questi passaggi rapidi Che voi spero non facciate Grazie a tutti Vediamo il contropelo adesso Grazie a tutti 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 Un ultimo piccolo ritocco Grazie a tutti 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 In questi Grazie a tutti 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 Ma voi Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Ciao